Buongiorno carissimi amici, benvenuti alla CarOnline, ma benvenuti a CarMagnola, non a caso siamo in piazza Sant'Agostino, cuore pulsante, dove ci siamo detti già altre volte, cuore pulsante della nostra città, direi della nostra bellissima città per due eventi assolutamente particolari, importanti, fatemi dire, di due mondi diversi, ma ugualmente importanti nel loro ambito. Siamo qui, appunto, vi dicevo perché siamo di fronte, in piazza Sant'Agostino, di fronte al Giardino 500, che cos'è la realizzazione del Giardino 500? La popolazione che si è messa insieme, i privati, le associazioni, gli imprenditori, le aziende, hanno realizzato questa magnifica costruzione alle mie spalle, che in omaggio, in memoria dei 500 anni, trascorse insieme dei 500 anni dalla consacrazione della collegiata, che è la chiesa principale della città di CarMagnola. Bene, pensate che già 500 anni fa tutta la popolazione si unì, si mise insieme, unirono le forze per realizzare la bellissima chiesa che è qui vicino. 500 anni dopo, eccoci di nuovo qui, in misura diversa, in un contesto pur difficile, ma la città ha espresso questa bellissima realizzazione che vedete alle nostre spalle, come vedete fiori, opere d'arte, giardini, tutta un'impostazione, naturalmente una croce importante, tutta un'impostazione molto bella, molto gradevole, che merita assolutamente noi di CarOnline, il nostro piccolo, vi invitiamo veramente a venire a visitare, perché è una cosa bella, sarà qui per qualche mese, non sappiamo fino a quando, ma sarà qui per qualche mese, proprio per farvela vedere e gustare, qualche volta, come capita, fatemi dire, nelle nostre automobili, con le nostre automobili, ma veramente una cosa bella. Abbiamo detto due cose, eccola qui la seconda, parliamo di automobili, la missione di CarOnline, eccola qui, tenetevi forte, sono andato troppo avanti, tenetevi forte carissimi amici, nuova Golf 1.4 TGI, quindi turbo, 1.4, 110 cavalli, alimentazione a metano, No, l'HPB ha metano, quindi metano più benzina, 1.400 chilometri di autonomia, 1.400 chilometri, che vi sia chiaro, quindi zero problemi di autonomia, pensate in Piemonte abbiamo intorno ai 100 distributori di metano, quindi il problema dell'alimentazione del reperire metano sicuramente si è molto ridotto, molto affievolato, e siamo felici di proporvi un prodotto eccezionale, pensate 3,5 euro per percorrere 100 chilometri, ripeto, 3 euro e mezzo per fare 100 chilometri, assolutamente una cosa fuori dalla norma, veramente in questo momento dove tutti facciamo attenzione a dove mettiamo i soldi e come li spendiamo, il proporvi una macchina di queste caratteristiche è veramente un vanto, è veramente una grande soddisfazione, naturalmente zero bollo e naturalmente circolate, sempre, a partire da 18.500 euro, chiave in mano nella versione 5 porte, ripeto, 18.500 euro, per veramente offrirvi questo grande, unico direi spettacolare prodotto, giusto nei 40 anni che festeggiamo, siamo epica di festeggiamenti, di 40 anni di nascita della Golf, naturalmente vi aspettiamo la caro online e ci spostiamo di là, vai! Certo, carissimi amici, 40 anni di successi indiscussi da vera leadership, eccola qui, questa è la, come dire, è la nonna, tris nonna, quasi un avolo, un gisavolo, questa veramente è una gran cosa, ma ancora di più tutte le nuove evoluzioni che abbiamo avuto, ripeto, 40 anni, 40 anni di successo, più o meno alla mia età, insomma, non facciamo troppi conti, però è veramente una gran cosa, ma il prodotto è, per la soddisfazione nostra, per la soddisfazione di voi, carissimi amici, chiaramente è fondamentale, ma non è tutto. Il prodotto è la cosa numero uno, sicuramente, ma è tutto il mondo che ci gira intorno, è anche fondamentale per la vostra soddisfazione, per la vostra fedeltà a noi, carissimi amici di Volkswagen, a noi di caro online, naturalmente. Ecco che, alla luce di questo, vi è veramente un piacere informarvi che abbiamo raggiunto un accordo con una primaria assicurazione, compagnia di assicurazione, naturalmente, che ci consente di offrirvi delle polizze assicurative legate ai servizi dell'automobile, quindi all'incendio e furto, ma con tantissime voci, quindi incendio, furto, attivandali, ceventi atmosferici, cristalli, incidenti contro animali selvatici, incidenti, purtroppo capita una cosa purtroppo diffusa, contro vetture non assicurate contro l'RC, tutta una serie di servizi estremamente importanti, legati, contenuti in un'unica polizia, incendio e furto, chiamiamola così, quindi non l'RC, ma l'incendio e furto, estremamente conveniente e estremamente competitiva. Perché competitivo? Oltremodo con tutti questi contenuti che vi dicevo, perché vi garantiamo il valore a nuovo, ripeto, il valore a nuovo per 2 barra 3 anni seconda della vettura, ripeto, valore a nuovo per 2 barra 3 anni seconda dell'autovettura, quindi se tornate da noi purtroppo che vi abbiano portato via la vettura in un arco di tempo così, 2 barra 3 anni, noi ve ne diamo un'altra pari caratteristiche, dello stesso valore, ecco, diciamo così, dello stesso valore che è il termine giusto. Tutto questo con franchigia zero, rivolgendovi a noi. Quindi nella grande, negli attivandai, su tutte queste cose, ripeto, con franchigia zero, che è veramente una grande, grandissima cosa per la vostra tranquillità. Tranquillità, ah, l'hai cattata sta macchina, però mi premunisco, mi preparo, casomai mi guardo oltre, casomai dovesse succedere un inconveniente, sono pronto, sono tranquillo, sono sereno, che come ci diciamo altre volte, l'hai già complicata la vita, per una macchina non facciamoci venire mai di fegato, anche se la golfa è una gran cosa, direi un po' più di una macchina, è un mito. Quindi, riassumendo, se io ho piacere di comprare una Volkswagen alla car online, che cosa ho in automatico, in default? Quindi il listino con lo sconto e va bene. Quindi comprate la macchina, no, noi vi facciamo lo sconto. Ma anche gli optional vi facciamo lo sconto, oltremodo, perché abbiamo dei pacchetti di optional con lo sconto che vanno dal 40 al 50%, che è di nuovo un vantaggio, una cosa importante. Naturalmente, benvenuto il vostro usato, vediamo di trattarvi al meglio, direi, al massimo, ripeto, per fare una cosa seria, piacevole a tutto tondo, ma come la paguma sta macchina? Stai tranquillo, come ce lo diciamo sempre, pagamento con interessi da zero, il 4,99% secondo le vetture, le campagne e le offerte di quel momento lì, oppure con zero anticipo, altro contenuto, plus, un'altra cosa importante e facile, che ci aiuta, che, ripeto, cerchiamo di andare assolutamente lisci, sempre, tante macchine pronte, perché non è che il vettuto, ma se è smesso a devla, perché sennò è una stufia anche, sempre, se avete piacere, con l'assicurazione di due o tre anni, valore a nuovo. Tutto questo è un baradà, alla car online. Vaspettuma per darvi tutte le informazioni chiarificatrici al massimo. Vai! Ma car online è anche centro ufficiale Audi, dove noi siamo assolutamente onorati di rappresentare questo marchio, questo marchio emozionante, spettacolare, con delle vetture assolutamente uniche. Cari sui amici, veramente gran macchine, come si dice da nostre parti, ma, attenzione, anche qui, grandi e esclusive offerte su tutta la gamma Audi, sia sulle valutazioni che sui finanziamenti, con consegna un po' veloce, perché quando serve, la vettura serve, non è che serve tra quattro mesi, serve più o meno adesso. Ripeto, ma attenzione, anche qui, grandi offerte, abbiamo una cosa, direi, estremamente interessante da offrirvi. Parliamo di service. Quindi, su tutte le Audi di car online, abbinate a un finanziamento Volkswagen Bank, sia che sia l'1%, sia che sia il 4,5%, il 5%, o un finanziamento, un leasing, anche minuto, anche se lo fatemi dire, di 5.000 euro, riusciamo a offrirvi il 50% di sconto sui pacchetti manutenzione. Ce ne sono due versioni, la versione più leggera o la versione più completa, secondo quello che si decide, secondo la percorrenza negli anni, quindi sul service, quindi sull'assistenza, naturalmente presso la rete ufficiale, della vostra autovettura, Audi nuova, comprato con leasing finanziamento, come vi fa comodo, sempre, come la paguma sta macchina, ma stai tranquilli che con la Volkswagen Bank, più o meno la raggiunga sempre, ripeto, sui pacchetti manutenzione, 50% di sconto, la metà, non un pezzettino, la metà, che ma smia una cosa, nè da poca. Vi aspettiamo veramente, per darvi tutta l'informazione, per essere chiari, che sappiamo esattamente, che sappiate esattamente bene, i termini piacevoli, sereni e tranquilli. Vai! Maccar Online, anche centro vetture d'occasione, con i chilometri certificati, per iscritto, con grande scelta, questa per esempio, una corsa, 1200 GPL, del 2010, 7500 euro. Molto piacevole, Mercedes-Benz 220 CDI, 8400 euro. Peugeot 207, 144 HDI, bellissima, 6500 euro. Emozionante, piacevolissima, Scirocco, 144 turbo, 160 cavalli, 13900 euro. Spettacolo della natura, A4, Avan 2000 TDI, 170 cavalli, 4, full optional, 28500 euro. Una rarità, Golf, 1600 DSG E-Line, full optional, 17900 euro, IVA compresa. Vai! Gran macchina, piccolo prezzo, Alfa Romeo, 159 station wagon, distinctive, turbodiesel, naturalmente, 7900 euro. Vogliamo divertirci, spendendo un piccolo prezzo? Eccola qui, Fiat Panda, 100 cavalli, del 2006, 42 mila chilometri, 5700 euro, veramente nuova, veramente nuova, veramente una soddisfazione. Tutto questo, cari amici, alla Car Online, a Car Magnola, dove abbiamo parlato di tante cose, ma dove vi aspettiamo per darvi tutte le informazioni, per essere chiari, felici, contenti e sereni di comprare una macchina da noi, che per noi, veramente, è la massima soddisfazione e la garanzia di successo nel futuro. Quindi, veramente, vi aspettiamo tutta la settimana, la mattina e il pomeriggio, il sabato, naturalmente, tutto il giorno, la mattina e il pomeriggio, qualche volta, come ormai, come ben sapete, anche la domenica, 1-2 volte al mese. Ripeto, Car Magnola, siamo a 300 metri dall'uscita dell'autostrada, Torino, Savona, uscita Car Magnola. Grazie, veramente grazie a tutti, un grande, grandissimo abbraccio. Ciao! Ciao!